Buongiorno a Paolo Calcagno, giornalista, critico cinematografico, che è stato per anni giornalista al Corriere della Sera. Com'è che è cominciata la tua avventura nel giornalismo? Non è cominciata subito con interesse per il cinema? No, no, no. Quando sono entrato in via Solferino a Milano sono entrato al giornale al quotidiano del pomeriggio del Corriere della Sera, che era il Corriere di Informazione. Mi occupavo di teatro e l'ho fatto da collaboratore per alcuni anni. Quando mi hanno assunto sono finito in cronaca a occuparmi di cronaca nera e cronaca bianca. Poi ho fatto per molti anni il cronista giudiziario. Mi sono occupato anche di sindacato, ma contemporaneamente continuavo su alcune riviste a coltivare il mio interesse per il teatro. E parallelamente anche è la mia passione per il cinema, ma non era espressa ancora come professionalmente. Sono poi passato al Corriere della Sera nell'83 e sono andato agli spettacoli, alla redazione e spettacoli. E lì ho cominciato a occuparmi soprattutto di televisione, che era una foresta vergine, era inesplorata completamente. E quindi abbiamo creato questa specializzazione che ho seguito per molti anni. E parallelamente mi sono occupato anche di cinema e questa volta anche professionalmente, sì. Cosa che poi si è incentivata e che ho mantenuto anche dopo la conclusione professionale, cioè dopo che sono andato in pensione, ho preferito continuare a occuparmi soltanto di cinema. Sì, e questa è la sensazione che ho avuto. Che con la pensione mi hai approfittato per sviluppare questa parte. E come cominciano gli incontri? Perché per chi ci ascolta, che hai cominciato a incontrare di noto, di notissimo in questo pianeta e che ti ha stimolato di più nell'incontro, nella conversazione, per quello che hanno fatto e che fanno? Devo dire che forse con non molto piacere dei miei colleghi che si occupavano di cinema, talvolta sia la direzione che il caporedattore, pur essendo io lo specialista della televisione, venivo inviato a incontrare alcuni personaggi di cinema o a manifestazioni cinematografica. Ti posso dire quelle che hanno avuto più rilevanza a quel tempo, non so, a Parigi sono andato da Eric Romer, Eric Romer dopo che aveva vinto con il Raggio Verde già l'anno prima il Festival di Venezia. Eric Romer faceva parte del gruppo Cahiers du Cinema di Parigi, con Godin e altri, Truffaut. Era un gruppo di critici cinematografici che aveva dato vita a questa rivista che in pratica è stata la piattaforma per il lancio della Nouvelle Vague francese e quasi tutti loro sono diventati autori della Nouvelle Vague francese, Truffaut, Dar, ma prima erano dei critici, facevano i critici cinematografici. Quindi andai a trovare Romer. Il titolo dell'incontro fu Niente sesso, sono Romer, una cosa del genere. Devo dire che non lo amavo per niente. Il cinema di Romer, perché non so se hai avuto modo di conoscerlo, è un cinema molto intimista, che è tutto basato su incontri anche giovanili, su incontri contemplativi, platonici, molto platonici, e molto basato sull'esplorazione della dimensione intima di questi personaggi. Che poi ha fatto scuola nel cinema francese. Il cinema francese è molto marcato da questo, non soltanto da parte del cinema di Romer, ma anche nelle commediole, nelle commedie. Insomma, è molto basato su questo. Io, devo dire la verità, non sono molto appassionato. Però fu un incontro estremamente interessante. Niente, che altro, un altro incontro molto importante. Sono stati 60 anni per il compleanno, la celebrazione dei 60 anni di Marcello Mastroianni. Mi ricordo che andai a Venezia. Lui stava girando a Venezia con Monicelli. Stava girando da Pirandello il fumatio a Pasquale. Quindi c'era la questione della vita doppia, della fuga, e tante altre cose molto interessanti. Che, devo dire, erano tutte molto presenti nell'intervista. Che io poi ho ripubblicato su Facebook, credo, l'anno scorso. Non mi ricordo in che occasione ho celebrato Marcello. E fu molto, molto divertente. Fu un grande piacere stare con questo personaggio. Che si rivelò più intelligente e profondo di quanto amava apparire. Perché Mastroianni amava apparire come una persona prima scriva, riservata, poco disponibile a scavarsi dentro di sé, pubblicamente. E poi piaceva anche passare un po' per superficiale. Non lo era per niente Mastroianni. Anzi, era molto acuto e ironico. Quando gli chiesi che cosa gli sarebbe piaciuto fare ancora, Mastroianni non lo dobbiamo ricordare noi. È stato il grande protagonista del cinema italiano. Penso il nostro attore più importante e rinomato. Diciamo, lui è il cinema italiano, no? Fellini, Antonioni, la commedia all'italiana e quant'altro. E lui mi disse, ah, io vorrei fare Tarzan. Ma come Tarzan? Dico, non c'hai neanche più l'età per fare Tarzan. No, ma, dice, guarda, io vorrei fare Tarzan a 60 anni. Tarzan non era mai vecchio, dimenticato, nella giungola, con questa scimmia tutta diversita, che è diventata tutta quei peli bianchi, questo vecchietto che sta lì, di cui tutti si sono dimenticati, e che un po' è diventato l'ancoroso. Mi piacerebbe tanto fare Tarzan. Vabbè, fu uno scoop quello ai tempi. Interessante, ascolto. Beh, anche che ti parlassi di questo, diciamo, che la questione era di fumatia pascala, uomo doppio. Insomma, non è che non si possa dire che non avesse avuto qualche cosa di doppio nella vita, no? Un po' è un dato per dire, una famosissima. Lui rivendicava completamente questa, in quanto attore, soprattutto questa, no? Diceva che l'attore è un bugiato, scusate l'espressione, è un figlio di puttana, è uno che ha il peso della sua dimensione reale, cerca sempre di evitarla, appunto interpretando e vestendosi i panni di altri, no? Vestendosi i panni di altri che sono apparentemente immaginari, ma poi lo sono fino a un certo punto immaginari. Sì, interessante questa questione, molto interessante, è vero. Infatti, rimanemmo anche in buoni rapporti, ricordo che sono andato poi di nuovo a trovarlo sul set più di una volta, a distanza di uno o due anni. Diceva, ma che ci dobbiamo più dire dopo un anno appena? Che vuoi che sia successo? Ancora dobbiamo dire delle cose. Vabbè, io non potevo essere evitato, perché ero lì per il Corriere della Sera, quindi era un impegno preso anche con la produzione, oltre il personaggio, capisci? Ma lui scherzava, amava a scherzare in questo modo. Sì, ti ho detto un po' i due più significativi, o almeno che per me hanno avuto un certo significato. Cioè uno personaggio che amavo, e un altro invece che non amavo per niente, ma entrambi sono stati molto importanti come incontri. E tra le dame del cinema? Adesso non ricordo bene, perché avendo seguito per molti anni il teatro, avevo già conosciuto tante attrici importanti, da Valentina Cortese, che era la signora del teatro a Milano, e che al cinema era già da tempo, di casa. Tanto per fare un nome, ma tante, tante attrici. Quindi diciamo che abbandonando un po' un ordine cronologico, i quali sono stati i primi incontri, ti potrei dire quali sono stati per me quelli più intensi, no? Sì. Un po' senza respiro. Citerei Cate Blanchett. Sì. Soprattutto oggi un'attrice che ha vinto due Oscar, è una grandissima attrice, che per me fu un po' come un'apparizione quando la vidi. Ero un fan di Cate Blanchett in quanto donna e come attrice. È un'australiana, Cate Blanchett, di origine australiana, nel cinema per caso, perché fu presa, quando accompagnò un'amica, durante un viaggio in Europa di questi, così, di nomadismo che si facevano in quegli anni, accompagnò un'amica, un provino, però scelsero lei. Viserò lei e scelsero lei. Va bene. Io ero stabilito dalla sua interpretazione di Elisabetta, soprattutto. ma poi anche da tutti gli altri film. E ti devo dire, l'ho conosciuta proprio a Napoli, io sono napoletano, ero, non ero già più al corriere a quel tempo, collaboravo con Il Tempo, ed ero lì per il film Napoli Film Festival. E questi qua, non so come, erano riusciti a catturare l'adesione di Kate Blanchett. Questa aveva dato la sua promessa che sarebbe andata. C'era qualcosa legato al figlio, ora non ricordo bene. E questa donna, di passaggio in Austria, o di passaggio, non so, nel Veneto o qualcosa, trovò il modo di arrivare giù a Napoli. Però sarebbe partita subito dopo questo incontro, sia con la stampa, sia la presentazione di quello che doveva presentare in quella circostanza, questa cosa di cui adesso non mi viene in mente. Però ricordo che fu un bel problema per noi giornalisti, perché, come sai, i giornali hanno dei tempi di chiusura, alcuni addirittura molto anticipati. Comunque ci sono dei, ci sono dei termini che sono tassativi, si va in, a un certo punto, si va in stampa, non è che si possa più aspettare, forse nella prima pagina, ecco, si poteva, si può aspettare fino a una certa ora, tarda ora, che adesso che sia mezzanotte, eccetera. Una pagina spettacolo, un incontro con un'attrice, sia pure importante e celebre ai tempi, come Kate Blanchett, diciamo che l'orario massimo, massimo, potevano essere proprio alle otto e mezzo alle nove di sera. E la signora Blanchett si presentò proprio alle nove di sera. Cioè, noi eravamo lì dalle sette che aspettavamo questo personale, ma che doveva ancora atterrare a Napoli, quindi poi nel traffico di Napoli, è venuta, è portata all'hotel, naturalmente ha dovuto fare la sua toilette, se ne sa, è passato molto tempo, quindi noi eravamo tutti un po' nervosi. Anche io ero nervoso, perché i tempi erano strettissimi, anzi erano già abbondantemente quasi superati. E ricordo che decisi ma alzare e mi mise a fare quattro passi un po' per dare un senso a questa sfuriata di nervosismo. E ero lì che me ne sono andato in un corridoio a passeggiare, giro e rigiro e mi trovo davanti come un'apparizione questa questa dea vestita di verde con i capelli biondi, un menso lago verde negli occhi sola che aveva sbagliato anche il corridoio, non sapeva dove andare, non era accompagnato da nessuno del fessio, ormai era al ridosso della sala stampa. E me la trovai così davanti, fu veramente un'apparizione emozionante. fu molto emozionante. Vabbè, poi ci fu un incontro, poi dopo l'ho rincontrato ancora a Roma, altrove. Vabbè, comunque è Cat Blanchett, io non devo non devo sottolineare che sia Cat Blanchett. Sì, il... Tra le italiane, vuoi sapere? Claudia Cardinale sicuramente è stata una... scusami, ma vedi, sono i postumi della mia costituzione. Fra le personaggi, le attrici italiane, devo dire che la Cardinale sicuramente per la sua cordialità, la sua disponibilità, ricordo che una volta a Doville stavamo girando... Io l'ho portato in Italia sul Rai e anche sulle TV tematiche, Telepiu, eccetera, alcuni festival che non si conoscevano in Italia. Fra questi c'è il Festival del Cineo Americano di Doville. Noi eravamo lì per la televisione e stavamo riprendendo non ricordo quale evento o quale cosa e all'evento insomma era... Appare come invitata marginalmente, veniva da... Lei abitava a Parigi a quel tempo, non c'entrava niente con quello che in quel momento eravamo attenti a seguire. Appare Claudia Cardinale. Stradinaria, bellissima, elegantissima. Io mi avvicinai... Che anno era? Eh? In che anno più o meno? Che anno? Anni 70. Anni 80. Anni 80. Anni 80. Mi avvicinai e lei chiesi di concederci un incontro. Le dice ah ma voi siete italiani e sorrideva e scambiamo qualche parola intanto fece accendere la camera e che andava lei se ne accorse e stette al gioco e parlavamo per oltre 20 minuti mezz'ora improvvisata sul momento con queste attrici di quel calibro gli appuntamenti vanno presi addirittura di anno in anno sai? Pensavo mesi e mesi ma... sì mesi e mesi dipende dai loro interessi anche e dalla loro agenda la cardinale era una bellissima un omaccione travestito da bellissima donna una grinta una grinta feroce immagino quello che doveva essere sul set per i suoi colleghi perché era era veramente una donna irriducibile e posso spiegarmi la carriera che ha fatto come l'ha fatta perché lei è arrivata da dal nord dell'Africa sì così è stata scelta tra tante persone tante in un casting che comprendeva anche Omar Sharif personaggi così ma che non erano sostenuti non erano appoggiati non avevano un pedigree non avevano erano poi delle promesse erano dei non dico esordienti ma quasi la ricordiamo nei soliti ignoti che faceva la sorella che veniva segregata dal fratello geloso era una donna molto molto agguerrita molto diciamo professionalmente molto aggressiva anche un vero maschiaccio un vero maschiaccio lei girava contemporaneamente otto e mezzo di Fellini e il gatto pardo di Visconti non lo so Visconti la voleva bruna e con i capelli lisci Fellini la voleva bionda e con le messe in piega questa donna si doveva alternare tra i due set più importanti al mondo in quel momento e doveva e doveva lì raccapezzarsi a a saltare da un personaggio all'altro una cosa non tanto facile e con la sua grinta però oltre che la sua bravura si capisce il suo grandissimo appillo appillo cinematografico la sua capacità seduttiva perché l'attore prima di tutto deve essere seduttivo non nel senso puramente sessuale ecco ma deve essere assolutamente l'attore è quello se non c'è quello l'attore poco importa cos'altro abbia deve prendere subito non so cosa vuol dire ma mi sa che deve colpire deve colpire deve entrare nell'immaginario del pubblico e sedurlo quindi non c'è bisogno di fare degli strip tease per questo perché sto parlando di attori quindi includo anche i maschi l'attore è così non ha poi ci sono attori che sono capaci di farlo con penso posso pensare a Alec Guinness attore straordinario però anche lui di una grande capacità seduttiva dotato molto dotato di una capacità seduttiva non so se ti ho soddisfatto la tua curiosità perché sì mi chiedo mi chiedo ora semplicemente ti chiedo ora una una testimonianza scritta intorno al cinema sulla televisione tu già ne hai scritto eccetera quasi intendo sono interventi no in ciascun caso ma hai mai pensato o hai fatto nel caso mi scuso ma un libro intorno alla tua lettura del cinema un libro intorno alla mia esperienza del cinema sì qua è la parte più come dire che può più interessare chi anche come me alcune di queste cose alcune mi sono note e altre no e quindi è per questa testimonianza che io mi chiedo anche la tua lettura proprio del cinema attraverso queste figure ma qualche amico qualche amico come te me me l'ha chiesto perché non fai un libro perché e io sì ho buttato giù una ho buttato giù una lista ce l'ho è quasi pronto se trovo l'editore lo pubblichiamo una lista di incontri con questi maestri perché sono maestri anche le attrici insomma intessi come in Italia anche alcune attrici si capisce non tutti alcuni attori oltre che i registi che è incentrata soprattutto sui registi sì ci ho perso un po' di tempo dalle incontri con questi maestri sai che io adesso mi occupo di condurre preparare alcune masterclass in qualche università italiana sì poi c'è l'attività nei festival nel festival di Prato ci sono interventi anche a Prato come no anche a Prato partecipo adesso il festival sarà dal 30 giugno al 4 di luglio seguo ancora i festival non tutti non tutti perché sono faticosi e non diciamo ad alcuni vado soltanto per fare quello che devo e poi me ne torno e mi riferisco che ne so Canna Venezia questi qua quasi non li seguo più oppure in questo senso altri invece che mi chiedono una certa consulenza e continuo a seguirli ma perché questa consulenza comporta anche l'abbattimento di alcuni della parte come dire più faticosa capito nel senso che vengo servito il riverito cioè i festival sono quanto di più faticoso ci sia per un giornalista che si occupi di spettacolo chi li segue lo sa bisogna incorrere di tutto e di tutti dunque sì ho una lista molto corposa ho una lista molto corposa e avrei anche un titolo ho intitolato quante immagini un tempo quante immagini un tempo un tempo se voi continuiamo e quante fole sono le ricordanze di Leopardi e dalle ricordanze bene il mi attengo ai tempi auspicabili dalla web tv liberi per la quale ti sto intervistando ti ringrazio moltissimo per questo incontro per queste testimonianze che sono anche molto belle oltre che interessanti e ringrazio e ci diamo appuntamento a qualche altra esplorazione cinematografica e no io quando prima hai accennato all'inizio della della tua esperienza di giornalista mi ero come dire si è sottolineato da solo che ti sei anche occupato di cronache giudiziarie quindi tutta altra cosa ma potremmo anche intervenire su queste questioni che sono delle delle questioni che mi che mi interessano avrei l'ardire di riuscire a scrivere diritto senza pena quindi ne ho di questioni da porti nel caso se mai ti è venuto un dubbio durante queste cronache eccetera a me è venuto recentemente ancora e ce l'ho ancora e non l'ho ancora perso questo non so neanche il nome io non mi occupo tanto di cronaca questo uomo che è stato dichiarato ai tre livelli di giustizia colpevole di aver ucciso questa bambina in una palestra è notissima la cosa ma io i nomi di queste cose non lo riporto non è una storia recente no non è una storia recente ho capito Denise si chiama Denise questa bambina si chiamava Denise mi pare una cosa del genere sì penso sì no questo è un altro ancora forse no è un altro ancora questo forse è quello comunque si è sempre dichiarato innocente recentemente c'è stato un intervento interessante del magistrato Gian Domenico Cagliazza che dà una lettura sobria di qualcuno che come un avvoltoio si è scannato su questo che comunque sta pagando quello che la società ritiene che sia giusto che paghi e afferma comunque afferma sempre la sua innocenza e io come dire procedo dal dubbio in questo caso non sta a me comunque non ho nessun elemento per risolverlo e voilà può darsi che possa essere materia di qualche altro incontro oltre che altri intorno intorno al cinema magari anche auspicando che questo libro intorno al cinema perché no che possa che possa trovare il suo editore è una materia io pubblicavo con Tullio Pironti Tullio Pironti sì ex boxer ma l'ho saputo leggendo i tuoi post questo io ah vedi bene sì perché io visitai la libreria Pironti a Napoli perché come ti ho accennato le altre vite io ho vissuto per un anno a Napoli e quindi sono andato alla libreria internazionale sul lungo mare per cercare i libri i francesi di Lacan sono passato da Pironti per me era un nome era sorpreso che la libreria fosse piccola non sapevo che fosse un ex boxer ah come no come no purtroppo è scomparso qualche mese fa sì recentemente sì bene ci diamo appuntamento anche perché mi terminerà il tempo disponibile via Zumba è stato un grande piacere ti ringrazio molto ti ringrazio molto spero di rivederti presto grazie a te grazie 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 grazie